Il grande spostamento è alle porte. È un'opportunità per entrare in una nuova frequenza, che si allinea con il nostro potenziale più elevato, che ci sostiene nel nostro viaggio, e che ci darà gli strumenti necessari per prosperare, avere successo ed evolvere. Il grande spostamento consiste nel recuperare il nostro potere, e nell'entrare in una nuova era di consapevolezza, comprensione, coscienza e luce. Si tratta di elevarsi al di sopra del caos, e di passare dalla dualità alla coscienza dell'unità. Si tratta di costruire le fondamenta di questa nuova era, abbracciando la trasformazione in tutti gli ambiti della vita, compresi il corpo, la mente e lo spirito, attraverso la pratica dello yoga e della meditazione, nonché attraverso scelte alimentari e di stile di vita, come camminare a piedi nudi della natura, o trascorrere del tempo con amici che innalzano la vostra vibrazione anziché svuotarla. Gli esseri umani sono parte integrante dell'ecosistema del pianeta. Siamo stati benedetti con la vita e la coscienza da questo magnifico pianeta e dai suoi doni. Siamo tutti uno. Siamo tutti connessi. Il mondo è in transizione, ma non finirà con l'apocalisse. È tempo di entrare nel nostro potere e reclamare le nostre vite. Questo è il momento di un cambiamento, di una guarigione, di un nuovo inizio e di una nuova speranza. L'età dell'oro di Gaia è qui. È il momento di entrare nel vostro potere, di reclamare la vostra anima, e di entrare nella nuova terra. Stiamo vivendo un'epoca di grande transizione. Il vecchio paradigma è stato sostituito da uno nuovo, e spetta a noi agire per realizzare questo cambiamento. La vecchia terra se n'è andata. È passata alla nuova terra. Questo è un tempo di trasformazione, e la trasformazione è necessaria se vogliamo avanzare sul nostro cammino verso l'ascensione. È tempo di abbracciare questa trasformazione, e di costruire le fondamenta della nuova terra. Siete i creatori della vostra vita, e avete il potere di plasmarla nel modo che preferite. Siete più di quello che vedete allo specchio, e avete il potenziale per creare una nuova versione di voi stessi. Recuperate il vostro potere entrando nell'età dell'oro di Gaia, e abbracciando la vostra vera identità di essere spirituale sulla terra. Il grande spostamento sta avvenendo a molti livelli, sta avvenendo a tutti i livelli, in ogni dimensione della realtà. La terra si sta preparando a questo cambiamento da migliaia di anni. I cambiamenti che stiamo vivendo ora, fanno parte di un processo evolutivo che alla fine ci porterà in una nuova età dell'oro di Gaia. La razza umana è stata addormentata per troppo tempo, quindi risvegliamoci e reclamiamo il nostro potere, in modo da poter entrare nella nuova età dell'oro di Gaia costruendo una base per noi stessi, elevandoci al di sopra del caos, navigando nelle transizioni, e incarnando un nuovo modo di essere sulla terra. Indipendentemente dal fatto che crediate in una nuova terra, non c'è motivo di temere i cambiamenti che stanno avvenendo sul nostro pianeta in questo momento. Più abbraccerete i cambiamenti attuali, più sarete in grado di muovervi agevolmente verso il vostro futuro nella nuova età dell'oro di Gaia. Il mondo sta cambiando irrevocabilmente. È un periodo di grandi sconvolgimenti, ma ora più che mai, è anche un periodo di grandi opportunità per l'evoluzione consapevole dell'umanità, e del nostro pianeta. Ci vuole molto coraggio per abbracciare il cambiamento. Ci vuole un'eternità per lasciare andare le vecchie abitudini e le persone, i luoghi e le cose ad essi associate. Ma una volta lasciate andare le vecchie abitudini, non si può più tornare indietro. Si può solo andare avanti nel territorio sconosciuto ma familiare, che è la nuova terra. Questa non è la fine, ma piuttosto un nuovo inizio. Stiamo ascendendo insieme verso un mondo diverso da quello che abbiamo conosciuto prima. Vi serviranno forza e coraggio per attraversare questo nuovo mondo, ma sarà anche pieno di opportunità meravigliose e di sfide, che metteranno alla prova le vostre capacità. Scegliete di affrontare queste sfide a testa alta, con la piena fiducia di essere all'altezza del compito, e vi troverete a prosperare in un mondo che non è solo entusiasmante per chi vi circonda, ma anche per voi stessi. Accettate il fatto che è arrivato il momento di un grande cambiamento. Ognuno di noi deve vivere nel momento presente, e confidare che ogni giorno porterà crescita e apprendimento. Abbiamo l'opportunità di incarnare le frequenze dell'amore, dell'onestà, del coraggio, e della verità. Ogni passo che facciamo, ogni cosa che diciamo e ogni nostra azione, contribuirà o meno al nostro progresso verso il destino di un pianeta dell'età dell'oro. I cambiamenti continueranno ad essere sostenuti da un numero sempre maggiore di eventi ed esseri. Dopodiché, la nuova Terra inizierà a materializzarsi in quella che voi chiamate realtà fisica. È già iniziata, ma non ve ne siete ancora accorti, perché state ancora vibrando sul livello terrestre 3D. I primi piccoli segni della nuova Terra possono essere visti ora, che questa sarà la loro luce guida per coloro che ne hanno bisogno. Quindi, in breve. Sì, c'è una nuova Terra e se siete pronti a dare il massimo, potete incarnarla ora. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. A.O., Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.